Un primo atteggiamento sul quale invito a riflettere è l'atteggiamento dell'umiltà. Se vogliamo veramente vivere quelle che sono le opere di misericordia corporale necessariamente dobbiamo riscoprire questa umiltà di fondo. Questa umiltà che ci mette innanzitutto in relazione con il Signore ma che ci aiuta anche a saperci mettere in relazione con i fratelli. Siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Prima di essere un comando è la rivelazione di una possibilità. Ed è sempre una possibilità che ci viene offerta per incontrare il fratello. Questa è un pochino la nostra esperienza, la nostra esperienza quotidiana in Caritas. Ci sforziamo, nonostante i limiti della nostra umanità, di metterci a disposizione dei fratelli, di poterli incontrare, di poterli incontrare guardandoli concretamente negli occhi, guardandoli concretamente nel volto, riscoprendo quella che va sotto il nome della pastorale dei volti che necessariamente dobbiamo impegnarci a vivere. E questa pastorale la possiamo vivere solamente se il nostro diventa un approccio di fede e nella fede. Perché nel fratello siamo chiamati a scoprire, a riscoprire il volto di Dio. Il volto di questo Dio che è amore, di questo Dio che è misericordia, di questo Dio che ci invita alla misericordia. Questa possibilità costituisce, per così dire, la regola d'oro che stabilisce l'amore attivo di ciascuno di noi verso l'altro. Una regola presente in tutte le culture della Terra perché è elaborata dal noi insieme nel cammino di umanizzazione. Purtroppo non è abbastanza conosciuta e ripetuta l'universalità di questo comando, spesso sconfessato anche dalle religioni. Ma se questo imperativo è sentito come tale, in ogni tempo, in ogni latitudine, significa che l'essere umano è capax boni, cioè capace di fare il bene e di discernere anche ciò che è bene e ciò che è male. In questa opera di discernimento necessariamente deve lasciarsi guidare dall'azione dello Spirito di Dio, riscoprendo un aspetto importante, quello di sapersi mettere alla scuola della parola, alla scuola del Signore, ma anche alla scuola dei poveri, anche alla scuola dei fratelli. Questo imperativo dell'amore dell'altro non è un privilegio di una religione, ma è qualche cosa di umano, di umanissimo, ispirato dal cuore presente in ogni persona che è capace di compierlo o di rifiutarlo. Ed è solo grazie allo Spirito Santo che possiamo sperimentare questi frutti che se accolti ci permettono di fare grandi cose. Secondo quella che è la parola stessa del Signore, se credete in me farete cose più grandi di me. Le opere di misericordia corporali sono dettate dal Vangelo che siamo chiamati ad accogliere, che siamo chiamati a servire, che siamo chiamati a vivere. Ve le ricordo molto semplicemente. Dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, serpellire i morti. E su di essi faccio tre brevi commenti, molto semplici. Innanzitutto le opere di misericordia corporale mi consolano, ci consolano. Perché? Perché non ci chiedono azioni difficili, non ci chiedono cose che solamente pochi potrebbero essere in grado di realizzare, ma sono sette forme di carità possibili a tutti. Ognuno può privarsi di un po' di cibo, di un vestito, può essere vicino a persone ammalate, può partecipare alla messa di esegue per un defunto. Con queste opere semplici possiamo arricchire la nostra vita di frutti di carità, i quali saranno graditi al Signore quando lo incontreremo nel momento della morte. Accanto a Lui ci aspetteranno i poveri che abbiamo aiutato e che intercederanno a nostro favore. Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché quando essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Ecco, sì, San Luca, al capitolo 16, versetto 9. All'inizio della mia avventura di direttore Caritas, ricordo che partecipai a un convegno, a uno dei moduli di formazione, ai quali tutti gli operatori sono chiamati. E sapete, di solito i convegni sono chiacchiere, si dicono tante parole. Anche in quell'occasione si dissero tante parole. Però una cosa mi colpì. E questa cosa fu un episodio, che vi racconto in maniera molto semplice, che capitò fuori dall'ufficialità del convegno, dietro le quinte possiamo dire. eravamo a tavola, eravamo alcuni direttori d'Italia, e a un certo punto si parlava proprio di questa misericordia spicciola, di questa carità spicciola, che siamo chiamati a vivere ogni giorno, nella nostra pratica, nella nostra prassi cristiana. e ci fu un direttore, di una Caritas del Nord, non dico quale, il quale a un certo punto portò una sua testimonianza, parlò di una sua esperienza, e dice, sapete, «Nella mia chiesa qualche mese fa c'è stata un'ordinazione diagonale, giovane che è stato ordinato, grande festa per tutta la comunità diocesana, grande festa per la comunità parrocchiale di provenienza di questo giovane, tutto il paese si è ritrovato in chiesa, insieme con il vescovo, insieme con i compratelli sacerdoti, insieme con altri diaconi, con i religiosi, con le religiose, grande festa. Dopo la celebrazione, siccome tutti i salmi finiscono in gloria, c'è stato anche il rinfresco, nel salone parrocchiale, mentre si stava festeggiando, a un certo punto comincia a piovere. I parenti vanno a riprendere i propri congiunti con gli ombrelli, con le macchine, in chiesa resta poca gente, a far festa resta poca gente, resta il vescovo, restano alcuni sacerdoti, e restò una vecchietta, che doveva andare in campagna, a piedi, da sola, sotto l'acqua. Avrebbe voluto un passaggio. Ma a chi bisognava chiedere? Al vescovo? Ma il vescovo è troppo importante. Il segretario del vescovo, l'autista del vescovo, e se il vescovo proprio in quel momento ha bisogno dell'autista, come si fa? Al parroco? Ma il parroco deve fare gli onori di casa. al diacono. È vero che è stato consacrato per la carità, ma è la sua festa. Quella vecchina cominciò a camminare da sola, sotto l'acqua, al buio, fino a quando si ferma una macchina, e una donna la fa salire in macchina e l'accompagna a casa. Prima di scendere ringrazia, dice, ma sa, lei è la provvidenza di Dio. E in curiosità chiede, ma lei dove va a quest'ora di notte? E la donna risponde, ora comincia il mio lavoro. Era una prostituta. E' scritto nel Vangelo, i pubblicani e le prostitute vi precederanno nel Regno dei Cieli. Questo per dire come la misericordia, le opere di misericordia corporali, mi consolano, perché sono a livello umano, a livello mio. La seconda riflessione sulla quale vorrei soffermare un pochino la mia e la vostra attenzione. E' ancora, data dal concetto dell'umiltà. Le opere di misericordia corporale ci invitano ancora all'umiltà, perché ci aprono ad un orizzonte di bisogni che superano ogni nostra possibilità di rispondere adeguatamente. Noi non siamo chiamati a usare la bacchetta magica, non ce l'abbiamo. Non siamo chiamati a risolvere i problemi dei nostri fratelli. Non siamo chiamati a risolvere i problemi di milioni e milioni di persone, spesso bambini che muoiono di fame, che non hanno vestiti per difendersi, che non hanno nessuno che li soccorra quando sono malati. Che cosa fare di fronte a questi bisogni? Spesso frutto di gravi ingiustizie create dalle nostre società del benessere. Che cosa ci dice Gesù? Come potremmo rispondere di fronte a Lui? Una reazione non infrequente è quella di volerci tappare gli occhi e le orecchie per non sentire i gemiti e per non vedere certi volti consumati dal bisogno. Di conseguenza la coscienza, un po' alla volta rischia di fasciarsi di quella indifferenza denunziata con forza da Papa Francesco nel suo messaggio dato la scorsa quaresima ma spesso riconsiderata nei suoi molteplici interventi e quotidiani nel quotidiano. La reazione del cristiano invece deve essere quella di tenere lo sguardo spalancato sui troppi poveri e sui troppi sofferenti. Di fronte a Lui a Loro riconosciamo con sincera umiltà di fare poco sia perché non abbiamo molti mezzi sia perché abbiamo poco coraggio e generosità. Sempre con umiltà però facciamo quel poco che possiamo anche se sembra una goccia nell'oceano e con umiltà dobbiamo poter pregare lo Spirito Santo perché ci liberi dalla tentazione dell'indifferenza e rende il nostro cuore più generoso verso chi invoca aiuto. Forse dovremmo imparare e far tesoro delle indicazioni molto chiare che Papa Benedetto XVI dava alla Chiesa in una delle sue lettere incicliche la Deus Carita Sest a un certo punto vi è un paragrafo in cui si incoraggia il fedele a saper vedere col cuore perché se riusciamo a vedere col cuore avremmo già fatto tanto a vedere amando ad avere l'attenzione su quelli che sono i bisogni i problemi dei fratelli che ci vivono accanto semplicemente amandoli. Questa urgenza ci permette di spingerci con umiltà fino a raggiungere le periferie esistenziali dove potremo fare esperienza di un'umanità ferita deturpata scoraggiata delusa che ha bisogno di essere riabilitata di ritrovare dignità a cui dobbiamo annunziare l'amore smisurato misericordioso e compassionevole di Dio solo dal vedere scaturisci il passo successivo farsi prossimo del fratello nel bisogno non possiamo non considerare allora l'icona del buon samaritano del Vangelo questi solo dopo aver visto il marcapitato sul ciglio della strada si fa vicino e diventa il suo prossimo instaurando una relazione col fratello nell'incontro nella prossimità nel volto contro volto occhio contro occhio si decide la relazione l'altro non è più lontano non è più uno tra i tanti altri ma un volto di fronte al mio e con il suo volto mi pone una domanda accende la mia responsabilità l'ultimo passo è il sentire provare compassione non solo con il cuore ma con le viscere che fremono che si commuovono qui si vede se uno ha il cuore di carne o il cuore di pietra per dirla con la Sacra Scrittura se è egoista o narcisista oppure se sa riconoscere il bisogno dell'altro fino a provare empatia fino a soffrire con l'altro se si compiono questi tre passi allora è quasi naturale agire e fare misericordia il terzo concetto sul quale vorrei soffermare un pochino la mia e la vostra attenzione le opere di misericordia corporale mostrano la caratteristica proprio dell'amore cristiano non è solo il Vangelo che invita ad aiutare i poveri i sofferenti un atteggiamento di filantropia e di compassione raccomandato da tutte le religioni e filosofie solo Gesù però dice quando hai dato da mangiare a un povero hai dato da mangiare a me il cristiano aiuta chi soffre perché in quel fratello debole vede il suo signore che lo aspetta che misura e misura la generosità del suo cuore e questa è la fede che ha fatto sorgere tanti grandi santi della carità in ogni tempo in ogni stagione della chiesa san vincenzo de paoli il grande santo della carità francese fondatore delle suore della carità dei preti della missione che diceva alle sue suore se mentre state per andare in chiesa trovate un vostro un fratello che è nel bisogno fermatevi perché quella è la vostra messa non penso che diceva una bestemmia san vincenzo diceva una grande verità imparata a saper lasciare Gesù Cristo realmente presente nei sacramenti realmente presente nell'eucaristia realmente presente in chiesa nella comunità per poterlo ritrovare realmente presente nel povero perché il povero non è altro se non l'immagine vivente del Cristo risorto Don Antonio Bello avrebbe detto che i poveri sono i tabernacoli viventi in cui possiamo veramente dinanzi ai quali possiamo realmente inginocchiarci per adorare per adorare il risorto il celebre episodio di San Martino che nel povero ignudo a cui ha donato metà del mantello gli si rivela il volto di Gesù che dice agli angeli Martino mi ha coperto con questa veste possiamo ricordare anche San Camillo dell'Ellis il santo degli incurabili che con i suoi compagni fece il voto di essere servi dei loro padroni gli infermi per tutta la vita perché nei poveri vedeva il suo Signore il Cristo così madre Teresa di Calcutta che stringeva tra le braccia i moribondi distesi lungo le strade perché in loro vedeva e accoglieva Gesù l'autore della lettera agli ebrei con una straordinaria intuizione dice che Gesù il figlio di Dio si è fatto uomo come noi e non si vergogna di chiamarci fratello fratelli non si vergogna di essere fratello dell'affamato del malato ridotto all'estrema debolezza del carcerato che ha rovinato se stesso quando li incontriamo abbiamo davanti un fratello che Gesù ama e nel quale si fa presente gli dona la sua dignità grazie alla quale merita di essere accolto e servito alla fine della vita ci aspetteranno i poveri che abbiamo aiutato e avranno il volto di Gesù grazie a tutti grazie a tutti